Chi ha iniziato la stagione proprio in queste ore, in questi giorni, in questa settimana è anche il settore gioanile, in particolare l'Under-19, ovvero la primavera del Parma e l'Under-18 alla guida. Confermato della primavera c'è Cesare Beggi che abbiamo con noi al telefono. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e ai suoi ostiti. Grazie di essere in nostra compagnia. Ricordiamo l'anno scorso un'ottima stagione per la primavera, sempre a buoni livelli in classifica nel campionato di primavera 2, poi la sconfitta in finale play-off contro il Frosinone. Su che basi, con che premesse si ripartite quest'anno, anche considerando che c'è un nuovo responsabile del settore gioanile come Mattia Notari e anche nuova linfa da questo punto di vista? Sì, ripartiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso anno, quindi da quello che è stato fatto l'anno scorso. È stata un'annata, come hai ricordato tu, molto bella sotto tanti punti di vista. Hai accennato ai risultati che sono stati importanti, ma per noi sono più importanti il fatto che i circati, i Sitz, siano stabilmente in prima squadra, che tanti della primavera dello scorso anno siano diventati patrimonio della società, essendo stati contrattualizzati e siano stati mandati a farti le ossa in Serie C. Quindi da questo punto di vista per un allenatore di settore giovanile è una soddisfazione enorme. Quindi adesso si riparte e come ogni anno l'allenatore della primavera deve ricostruire tutto. Insieme al nuovo responsabile vogliamo fare bene. Sicuramente la primavera di quest'anno è molto giovane, il campionato sarà molto competitivo, però come sempre il Parma ci proverà. Mi ha colpito il fatto che Mattia Notari, il nuovo responsabile del settore giovanile, abbia detto, Beggi, nella presentazione, insomma, abbia detto noi cerchiamo giocatori al di là di italiani, stranieri, giocatori che abbiano voglia di stare al Parma, che capiscano cosa vuol dire anche giocare e vestire una maglia come quella crociata anche nelle squadre sotto la maggiore. È effettivamente così una cosa che cercate? Sì, sì, sicuramente, sicuramente sta anche noi allenatori far percepire l'importanza di questa maglia perché tanti ragazzi giovani che abbiamo noi, che magari sono anche stranieri, magari non conoscono la storia del Parma e sta anche a noi ogni tanto rinfrescare loro la memoria facendogli capire che questa maglia è stata indossata da giocatori importanti, da voi in studio ce n'è uno di questi e quindi insieme a farli crescere dal puntista calcistico dobbiamo farli crescere anche sapendo che tipo di casacca stanno indossando. Tra poco le faccio fare qualche domanda dagli ospiti in studio, le chiedo però ha già, non so, se ha avuto già occasioni di parlare con Pecchi anche se i tempi sono stati stretti, perché chiaramente un ruolo come il suo di allenatore della primavera è focalizzato sui risultati ma anche sul lavoro verso la prima squadra. Nei compiti è un dovere dell'allenatore della primavera conoscere il modo di lavorare della prima squadra, sono stato ospite a Peio dello staff tecnico e quindi per forza di cose devo conoscere le modalità di lavoro del mister della prima squadra perché uno dei nostri compiti è quello di far trovare al mister dei giocatori che nel caso lui avesse bisogno conoscano la sua metodologia di lavoro e siano pronti per allenarsi con loro ed eventualmente poi esordire se il mister lo riterrà opportuno. Sì, Luca, Luca Ampolini, effettivamente c'è un po' di continuità anche da questo punto di vista, settore giovanile, anche con lo stesso Cesare Beggi, anche se è cambiato il responsabile, però chiaramente l'idea di fondo e la filosofia è la stessa, anche questo può aiutare. Sì, è molto importante quello che ha detto il mister adesso, cioè che è stato ospite del ritiro di Peio proprio per far capire quanta coesione ci sia tra le due realtà. Io a tal proposito le chiedevo questo, c'è un giocatore l'anno scorso, un paio di domande, un giocatore l'anno scorso che ha cominciato, cercati lo conosciamo già abbastanza bene, ha cominciato a farsi vedere nel Parma l'anno scorso di Iachini che è Sizz. Quest'anno Pecchia lo ha provato anche come esterno offensivo, lui nasce più da centravanti, però può fare anche questo tipo di ruolo? E la seconda domanda, non le chiedo evidentemente i nomi, ma se già attualmente nella primavera ci sono dei giocatori che piano piano possono entrare quest'anno nell'orbita un po' stabilmente della prima squadra? Per quanto riguarda Dario Sizz, sicuramente ha tutte le caratteristiche per giocare anche in quel ruolo, è un ragazzo che deve ancora completare la sua maturazione, quindi non vedo controindicazioni all'utilizzo di Dario in quella posizione, poi chiaramente ci sono le aspettative personali, magari dopo non so se lui preferisca giocare più centrale o più esterno, ma ripeto, quando la prima squadra ti chiama penso che il ruolo sia l'ultimo dei problemi, quindi davvero lui ha tutte le caratteristiche per giocare anche in quella posizione, è un ragazzo che ha corse, è determinato, è un lavoratore incredibile, quindi da questo punto di vista lui non troverà problemi. Per quanto riguarda i nomi, comunque i prospetti di quest'anno, abbiamo appena iniziato, siamo molto giovani, quindi è ancora davvero molto presto. Di sicuro c'è qualche ragazzo interessante che già l'anno scorso, pur giovanissimo, faceva parte del gruppo, ti cito Marconi, ma chiaramente lo conoscete forse meglio voi di me, nel senso che… Marconi me lo aspettavo, certo. Però obiettivamente è un ragazzo che sta facendo bene, deve anche lui completare il suo processo di formazione, però stiamo parlando di un ragazzo davvero, secondo tutti, destinato a fare un percorso importante nel calcio. Altre due considerazioni, Luca, no, Luca Ampollini e adesso Sandro Melli. Sandro, vedevo che hanno i bico il nome di Cercati, effettivamente ci sono tanti ragazzi che poco alla volta si sono ritagliati uno spazio in un'annata che non è stata facile per la prima squadra, un posto come rincalzi importanti anche per la giovane età nella prima squadra, Cercati era uno di questi. Sì, intanto saluto il mister, non ci conosciamo ma le faccio i complimenti perché avete fatto un'ottima stagione e se mi permetti posso darti del tu. Mi hanno parlato molto bene di te, dunque non tanto per il discorso dei risultati ma proprio per la metodologia, per il modo di approcciarti, dunque ti faccio veramente i complimenti. Per quanto riguarda Cercati è un ragazzo che nel discorso prima dei difensori centrali mi sono perso. Cercati l'anno scorso a me ha fatto un'ottima impressione, dunque se personalmente così deve crescere, un ragazzo che sicuramente deve ancora maturare sotto tanti aspetti, ma io credo che sia più pronto il Cercati che ho visto io l'anno scorso che qualche d'uno di quei nomi che abbiamo fatto prima. Cioè a me Cercati l'anno scorso è piaciuto tantissimo. Certo, è vero, che ne pensa? Sì, sono d'accordo con quanto dice Sandro e sicuramente ha tutte le potenzialità per stare in quel gruppo. Chiaramente l'anno scorso è entrato in un momento dove nessuno si aspettava niente da lui e quindi ha fatto bene. Chiaramente adesso tutti si aspettano qualcosina di più e probabilmente sarà un ragazzo che magari andrà incontro anche alle prime difficoltà. Però stiamo parlando davvero di un ragazzo che dà il grande potenziale, sia fisico che atletico e anche come personalità e mentalità, un ragazzo che quando viene chiamato in causa non tradisce mai. Quindi siamo di fronte a un ragazzo di sicuro a venire. Poi ripeto, i centrali come avete elencato voi sono tantissimi, quindi la concorrenza sarà elevata. Però lui saprà ritagliarsi il suo spazio. Insomma anche le pressioni su di lei sono tante perché il presidente Krause ha detto in una recente conferenza stampa puntiamo a portare in prima squadra, lui ha detto tre giocatori ogni anno della primavera. In realtà poi non voleva proprio dire quella cifra ogni anno perché è davvero neanche da top club nel mondo. Però insomma il ruolo vostro è quello. Non so se Marco Bernardini aveva una domanda per Cesare Beggi. Sì, mister Beggi, mi associo ai complimenti che l'ha appena fatto Sandro. Le chiedo effettivamente cosa cambierebbe rispetto al finale della passata stagione. Davvero è mancato poco a raggiungere l'obiettivo. Se c'è un qualcosa, magari memore anche di quanto magari non è riuscito proprio alla fine perché siete davvero arrivati vicinissimi a un traguardo importante. Sì, beh certo. Quando tre o quattro giocatori importanti per la primavera vanno in prima squadra siamo tutti felici ovviamente perché vuol dire che il lavoro fatto anche da chi mi ha preceduto è stato fatto bene e quindi siamo tutti contenti. Ovviamente è il rovescio della medaglia che giocando in prima squadra non giocano più in primavera e quando quattro o cinque giocatori ti vengono a mancare chiaramente un po' la competitività della squadra cala. Detto questo siamo riusciti lo stesso ad arrivare alla finale ma eravamo in condizioni un po' veramente in grande difficoltà e quindi l'abbiamo lottata, l'abbiamo giocata ma obiettivamente l'abbiamo persa anche meritatamente. Quindi il rammarico che è una gioia è stato quello di non aver potuto giocare con tutta la rosa della primavera al completo. Se parliamo del risultato numerico però ripeto è una gioia averli visti poi giocare al Tardini. Insomma poi i risultati ci sono proprio al Tardini come ha citato lei. Mister grazie di essere stato in nostra compagnia ovviamente buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille, arrivederci. Grazie di essere stato in nostra compagnia Cesare Beggi allenatore della primavera del Parma ha iniziato proprio in questi giorni gli allenamenti al centro sportivo di Collegio peraltro proprio in questi giorni al centro sportivo di Collegio è tornato anche il Parma calcio femminile che insomma è stato a Peglio in ritiro dove era stato il Parma ha ricevuto anche la visita del presidente Crausa adesso gli allenamenti a Collegio proprio oggi Crausa ha twittato perché twitta le bandierine anche per il calcio femminile perché ha questo desiderio e il suo modo per annunciare i nuovi acquisti e oggi ha annunciato anche una bandiera del Portogallo come dice lui possibile ultimo acquisto di questa rosa che disputerà lo ricordiamo la serie A femminile peraltro c'è una giocatrice che ha partecipato insomma gli europei che sono proprio in corso ancora in questi giorni insomma vedremo cosa potrà fare la squadra quest'anno noi seguiremo da vicino le gesta anche delle ragazze crociate questa è la serie A femminile del prossimo anno insomma campionato molto impegnativo chiaramente per il Parma di mister Ulderici